siamo di nuovo qua io avevo promesso a me stesso e anche a qualche amico che non sarei più intervenuto sulla trasmissione perché tra l'altro telegarda non c'è più ma i due soci sviolinatori signor gala schif di fronte signor paresi mi hanno insomma fatto pressioni anche se anche se la mia età tanto perché la mia che fette una parentesi prima di iniziare così mi levo un po di incazzatura che ho addosso e allora sono in piazza e contro uno prima dice come stanno bene e l'età è di 90 compiuti si dico 90 compiuti ma sta bene ma si dico stavo soltanto avevo problemi alla schiena anche vorrei anche che non avevi mal di schiena dottor ecco allora fatta questa parentesi io sono ancora qua a parlare dico incazzatura perché sono molto perplesso su queste elezioni provinciali e sulla situazione nazionale su quella provinciale vi dico la verità il fatto che in trentino non ci sia un unico partito di appartenenza serio questo mi disturba e mette seriamente in gioco la nostra autonomia perché in alto adige c'è la sui tirole for partai e non ditemi che qui della sui tirole for partai le tutti di destra tutti di sinistra c'è dentro tantissimo io più di una volta ho detto ai vari esponenti e i miei amici di cui gallas mi ha pregato e raccomandato di non fare nomi di iscriversi a un partito calenda del partito social democratico ne ha dato la dimostrazione calenda non è del pd però un certo momento calenda quando il governo si è iscritto al partito democratico perché perché solo entrando dentro in un partito si riesce a dire qualcosa e non da fuori allora qua bisognava scegliere un partito io faccio un esempio diciamo qual è che più vicino nella terminologia a la sui tirole for partai il partito il pat che cos'è aiutare il partito trentino partito trentino tirolese su questo bisogna puntare e iscriversi in massa parisi gallas tamanini in massa in massa ma qui del pacchi qua ma chi se ne frega se andiamo dentro tutti se la maggior parte della popolazione si scrive a un pa diventa un partito di appartenenza noi corriamo un rischio terribile il veneto ci vuole inglobare tutti altri dischi sempre privilegiati esodi questo passo e mi si presentano a queste elezioni in trentuno liste e 11 candidati e non vi dico quello che ho sentito da parte di alcuni candidati impresentabili persone che non abbiamo mai visto mai conosciuto mai sentiti adesso sapete anche qualche volta mi viene anche nervoso perché che abbiano ancora il coraggio di venire a chiederci il voto quando abbiamo la galleria che non l'hanno ancora fatto iniziata a un canale solo orco de vacco quando a mezzo lombardo dove che il signor rosso ha avuto la spudoratezza di costruire un ospedale nuovo a mezzo lombardo e però in gala la doppia canna a mezzo lombardo e noi qua nonostante i nostri rappresentanti da benedetti a ballardini a molinari a tutti quelli che abbiamo avuto fravezzi angeli maloseni giovanassi siamo qua senza niente mi rendete conto e il coraggio di venire a domandare i voti ma qualche volta ti vorrebbe la voglia di dire signori tacchevi al tram mal tacchevi al tram la cosa che a me preoccupa seriamente è che dopo queste elezioni ci sia una ingovernabilità del trentino sarà una mia intuizione sbagliata probabilmente ripeto la mia età però una provincia come quella di trento non può permettersi il lusso di presentarsi con 31 liste e con 11 candidati non può permettersi questo lusso per quanto riguarda il campo nazionale io sono sbalordito perché il centrodestra è fatto dalla meloni dalla lega e da berlusconi a un certo momento uno dei tre tradisce e va con i cinque stelle dopo che i cinque stelle avevano detto che mai e poi mai sarebbero andati con berlusconi però questi continuano a dire che sono alleati tra di loro allora berlusconi berlusconi diventa il socio occulto secondo travaglio travaglio lo chiama il socio occulto ma come potete stare insieme con uno che ha quel socio occulto che quello che paga la lega perché le televisioni non siano toccate perché lo capisce anche a cretino che berlusconi aiuta la lega e tacce su tante cose perché la lega gli ha garantito che probabilmente non tocca le televisioni auguri a tutti e vedrò per chi si vota boh dio solo sa vediamo